che mi fai? ma lo sai che è già iniziato il video? è già iniziato il video 10.000 è già iniziato il video ma questa è già quando? io non ho le armi dove sei? dove sei? perchè non vedo niente? permettere almeno che si vedono i nomi? dove sei? dove sei? ah tu dove sei? vedo tutto bianco però lo stesso non vedo niente adesso vedo tutto rosa qualcosa? io vedo pure io il video però io vedo dove andare puoi mettere il tutto normale? ma che cacchio? dove sei? ma che cacchio? perché stavi volando? ma che cacchio? ti colpisco solo tanto una volta va bene di generazione vai non puoi volare adesso mi hai visto ma se mi miri ma tu hai 10.000 di vita io ci ho colpito più del normale vieni qua un attimo adesso non sparare non sparare vediamo quanta vita c'hai non sparare no c'hai 10.000 di vita 220 110 ma se c'hai 10.000 di vita tornimi tanto io me ne vado ma se c'hai 10.000 di vita l'avete visto pure voi arrivo dove? ho capito aspetta butto questo lo sto prendendo non lo trovo eccolo qui 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 vola benissimo un attimo ma l'hai mancato è difficile 3,2,1 sparo mi metto ancora più indietro sì, lo volevo appena fare avevo già preso la mira eh ma io non come faccio? no, non sei lì proprio eri lì dietro ma tu devi essere all'angolo all'angolo io non ci riuscirò mai te lo dico già dove? alla punta aprila che cacchio aspetta ma dai connessione di schifo connessione di schifo connessione di schifo connessione di merda ma mi posso muovere? benissimo perché mi ma mi lagga mi lagga un botto mi lagga un botto dopo ci guardi il video va bene? sì dopo guardi come mi sta laggando tantissimo cosa? sì che c'è aspetta che guardo sì sta registrando non l'hai non l'ho finito no va bene adesso non mi lagga cioè lo giuro su dio volo e così non funziona nella 2 selezione apnica aspetta sono in squarra due squarra non so proprio parlare squarra video va va strassi a me ne so zai ti ne zai mi pericet zanai Sì, stai. lo faccio io arrivo io ti ho rotto la porta dove sto andando? mi ha portato il coso non ho fatto in tempo a ritornare non ho fatto in tempo ok c'è di nuovo i permessi arrivo volando pisciando si ma io sto volando nel culo spormi spormi nel culo ti ho messo pure si se c'è il primo tentativo sei il mio migliore amico è si dai è pure a me si no lo sei adesso lo faccio io io non ci riuscirò da lontano no? perché? se invece si no non ce la faccio eh ma perché ti sei tolto? perché? dai abbassati 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 perché salti? ti puoi abbassare? abbassati abbassati faccio esplodere tutto adesso ma perché salti? mettiti all'angolo io sparo intanto intanto lo faccio da qui un po' più vicino ma perché salti? perché? eh ma te salti cioè ecco ma tu spari quando io sto fermo meno male io cado ma non devi sparare mi metto molto più in alto da spari e dritto eppiii la connessione è un po' rotta la mia connessione fa schifo fa schifo che cacchio che cacchio qua no niente devo già concludere il video sparo non ti muovere non ti muovere vai vai saltate non ti muovere a no 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 Grazie. Grazie. Va bene. Va bene. Su quegli acaccio di isola. Andiamo. Schifo. Ma è caduto da solo. Ma che cacchio è? Ma perché non c'è la scala? Va bene. Ipi. Ma che cacchio. Ma che cacchio. Ma che cacchio è la scala. Grazie.